Ciao! Oggi vedremo insieme un paio di esercizi di stretching, di riscaldamento e in generale di equilibrio, anche in preparazione dei calci. Chi ha voglia di cominciare? Allora, il primo esercizio che vi consiglio di fare con il riscaldamento è questo. Dieci volte, eh? Più o meno. Poi cambiamo. E le gambe rimangono così. Muoviamo le braccia nell'altro senso. E cambiamo. Andiamo con una volta. Cambio. 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 Per questi esercizi non avete bisogno di molto spazio, quindi li potete fare tranquillamente nel giardino di casa vostra o nel garage. Andiamo avanti con gli esercizi di stretching. Apriamo tutte e due le gambe. E andiamo avanti col busso. Non è necessario di aprire tanto le gambe. Cioè l'importante è... Ve lo faccio vedere di lato. L'importante è non chiedere la schiena. Cioè la schiena deve rimanere sempre dritta. Cioè dovete immaginare il nodo della cintura o l'ombelico, se non avete la cintura, che va avanti. E la testa che va in alto. Quindi in realtà non è che bisogna venire avanti. Bisogna andare avanti con la pancia. Ok? Poi andiamo con il piede. E la schiena rimane sempre dritta. Cioè il nodo della cintura, l'ombelico, sono sempre rivolti verso l'avanti. Altro piede. Bene. Poi una gamba distessa e l'altra piegata. E andiamo a prendere il piede avanti. Stesso discorso qui. Quando vado avanti non piego la schiena. Il nodo della cintura va avanti. Cioè io voglio andare avanti con la pancia, in alto con la testa. Dopodiché vado avanti. Cambio gamba. Bene. E raccogliamo le gambe. Questo esercizio è la stessa cosa. La pancia va avanti, quindi il nodo dell'ombelico, il nodo della cintura, scusate, va avanti. L'ombelico va avanti. Le ginocchia vanno verso il basso. E anche le spalle vanno verso il basso. Faccio vedere di lato. Quindi non così. Così. Benissimo. Un altro esercizio che mi piace molto come riscaldamento è questo. Raccogliamo un ginocchio al petto. Il ginocchio è molto vicino al petto. Apro. Il busto rimane dritto. Ruoto. Vado dietro. Il ginocchio a fianco all'altro. E di nuovo avanti. E scende. L'altra gamba ve lo faccio vedere di lato. Il ginocchio al petto. Più vicino al petto possibile. Apro. Gamba orizzontale. Dietro. Vinocchio a fianco. E avanti. E ritorno. Questo esercizio è un esercizio molto utile per esercitare l'equilibrio in preparazione del calcio. Per esempio, questo è il caricamento per il calcio Magheri. Calcio frontale. E anche il caricamento per il calcio Jogheri. Calcio laterale. Calcio laterale. E anche il caricamento per il calcio uscirogheri. Il calcio dietro, posteriore. E anche il caricamento per il calcio circolare. Calcio Magheri. Calcio Magheri. inflammato. Calcio. Calcio. Passiamo. Prima. Lagro. Atvolence. Colato. Grazie a tutti. Se durante questo esercizio, specialmente quello dei calci, perdete l'equilibrio, è molto importante non affrettare la fine dell'esercizio, ma recuperare l'equilibrio e finire l'esercizio lentamente. Questi esercizi di preparazione vi aiuteranno tantissimo quando poi andremo a effettuare le tecniche di calcio. Grazie mille per la vostra attenzione e per il vostro sostegno. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un commento qui sotto o mettetevi un mi piace, lo apprezzo moltissimo. Ci vediamo in palestra. Ciao!